I cambiamenti climatici sappiamo tutti che sono un tema molto controverso. Oggi nonostante la comunità scientifica ha a disposizione una quantità di dati molto numerosi e sebbene la scienza attribuisca allo sviluppo industriale un'importante responsabilità non si ha una vera e propria risposta definitiva a questa problematica. Infatti dobbiamo tenere conto che oggi lo sviluppo industriale incide molto sui fenomeni naturali accelerandoli. Per la prima volta nella storia la terra deve fare i conti anche con una specie così distribuita nel mondo e così industrializzata, impattante e così numerosa soprattutto. Non ci dimentichiamo che oggi siamo più di 7 miliardi di persone. Negli ultimi 15 anni della mia vita, grazie al mio lavoro, ho avuto l'opportunità di viaggiare molto in zone particolarmente remote e affascinanti della terra. Sono un fotografo naturalista specializzato nel settore della montagna e del paesaggio. Grazie alle mie immagini cerco di stimolare la curiosità sull'interazione tra uomo e natura e su quello che comporta questa interazione. Quasi dieci anni fa ho iniziato a pensare ad un progetto che mi desse la possibilità, tramite la fotografia, di contribuire a quello che è la comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici. E infatti la fotografia da quando esiste, circa il 1850, è sempre stato uno strumento della ricerca scientifica. E sono state proprio queste le motivazioni che mi hanno spinto a realizzare il progetto sulle tracce dei ghiacciai. Il progetto sulle tracce dei ghiacciai è un progetto fotografico scientifico che contribuisce nella ricerca scientifica e prevede diverse spedizioni sul campo nelle catene montuose più importanti del pianeta. Si sviluppa nell'arco di circa dieci anni e durante queste spedizioni andiamo a realizzare diverse fotografie, le stesse fotografie scattate tra fine Ottocento e primi del Novecento dagli stessi esploratori, dagli esploratori fotografi che hanno visitato quelle regioni. E grazie a questi confronti riusciamo a capire quelle che sono state le modificazioni del paesaggio in queste regioni. Oltretutto, durante queste spedizioni coinvolgiamo anche dei ricercatori glaciologi che vengono con noi e prendono dei dati concreti, delle misurazioni glaciologiche. E grazie a questo lavoro stiamo cercando e stiamo contribuendo alla ricerca scientifica e alla comprensione degli effetti dei cambiamenti climatici in relazione al fenomeno dell'arretramento dei ghiacciai. Oltretutto questo progetto ci dà la possibilità di sviluppare, di parlare dei valori che personalmente reputo molto importanti come lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia di un patrimonio storico-culturale che abbiamo in Italia ma nel mondo come gli archivi fotografici e tanti altri valori come il risparmio energetico, l'importanza della ricerca scientifica che purtroppo in particolare in Italia non viene sponsorizzata dalle istituzioni. Inoltre queste spedizioni hanno una metodologia particolare. Siamo stati già in Karakorum, in Pakistan, vicino alla seconda montagna più alta del mondo, in Caucaso, in Alaska. Prima di queste spedizioni, quasi un anno prima, andiamo a realizzare una ricerca d'archivio delle fotografie che devono avere prettamente due interessi, l'interesse scientifico e l'interesse fotografico, la particolarità di essere molto particolarmente estetiche. Inoltre cerchiamo di pianificare tutte quelle problematiche, ecco queste sono alcune immagini di confronto che vedremo poi in seguito, lo studio anche delle mappe topografiche storiche che ci aiutano a posizionare le immagini nei luoghi. Andiamo a studiare tutti i libri fotografici e i diari di viaggio dei fotografi per capire esattamente da dove hanno scattato queste immagini. Inoltre cerchiamo di pianificare anche tutte le problematiche logistiche legate all'approvvigionamento di cibo. Siamo costretti a stare nella natura incontaminata per un mese e mezzo, quindi approvvigionamento di cibo, acqua, spostamenti, guide alpine, portatori, rullamento di animali che ci aiutano a portare il materiale. Viaggiamo con 4, 5, 600 kg di materiale. Il problema dell'ipossia, quindi la mancanza d'ossigeno. In Caracorum abbiamo lavorato dai 4.000 ai 6.000 metri e tutti voi sapete che in altissima quota si ragiona in maniera molto più lenta, si fatica molto di più, quindi sono tutte problematiche che vanno considerate per riuscire a raggiungere i luoghi fotografici, le stazioni fotografiche. Inoltre, durante le spedizioni georeferenziamo tutte le immagini e questo per dare la possibilità a futuri fotografi, futuri scienziati, di rifare lo stesso nostro lavoro con maggiore facilità. E a fine spedizione, a seguito, ritornando in Italia, andiamo a realizzare un vero e proprio lavoro di restauro delle fotografie storiche e di postproduzione delle immagini moderne. è un lunghissimo lavoro che dura diversi mesi. Infine, per divulgare al pubblico il risultato di questo lavoro realizziamo delle esposizioni, una mostra fotografica itinerante, dei documentari televisivi, dei progetti didattici, sia nei luoghi che abbiamo visitato, sia in Italia, con le scuole e ovviamente la presenza anche sui media. Produciamo una rassegna stampa di circa 400 pagine l'anno. Qui siamo in Caracorum, possiamo vedere come questo ghiacciaio, il ghiacciaio Biafo, ha avuto in 100 anni un arretramento di circa 3 km, è sparito completamente il ghiacciaio, questa parte centrale in rilievo, è tutto ghiaccio, può sembrare strano ma è nero perché è coperto da detrito. Questa è una delle caratteristiche, il motivo per cui questi ghiacciaio a volte hanno un'inerzia molto forte al cambiamento climatico, all'aumento di temperature. Questo è il ghiacciaio Baltoro, il quarto ghiacciaio più grande del mondo, più lungo del mondo, quasi 60 km. Ha perso soprattutto, a differenza dell'altro ghiacciaio, che si trova semplicemente a 300 metri più in basso, il suo spessore. Quelle lì in basso sono delle tende, quindi stiamo parlando di uno spessore di circa 70-60 metri. Questo addirittura invece è un ghiacciaio che è in avanzata, negli anni 50 è avanzato di circa un chilometro e mezzo in soli tre mesi. Anche questo si pensa che sia un effetto dei cambiamenti climatici. Qui invece siamo sempre sul Baltoro, in mezzo c'è il K2, il Broad Peak, le montagne più alte del mondo, il Gashenbrun 1, il Gashenbrun 4, quindi bacini di accumulo da dove la neve si accumula e poi si porta con delle grandi valanghe sui ghiacciai e i cambiamenti non sono stati così evidenti a parte lo spessore. Qui invece siamo sempre in Caracorum, in Caucaso, dove invece i ghiacciai sono in bassissima quota rispetto al Caracorum, che invece arrivano a una quota di circa 3.000 metri. Invece in Caucaso i ghiacciai addirittura hanno lasciato spazio ad intere foreste a distanza di 134 anni. Questo ghiacciaio, il Tui Beri, era uno dei ghiacciai più grandi del Caucaso Maggiore, si è arretrato di 5 chilometri. Stiamo parlando di una valle larga di un chilometro e mezzo e profonda 5, quindi delle masse glaciali enormi. Qui siamo a 3.000 metri davanti ai colossi del Caucaso Maggiore, tra Russia e Caucaso, il Ternul di un 4.900, quindi più alto del Monte Bianco, lo Scara, che è un 5.200. Questo ghiacciaio, nonostante abbia un bacino di accumulo molto alto, è un icefall molto ripida di circa 1.500 metri, che quindi a porta neve al ghiacciaio si è arretrato, ha diminuito il suo spessore, la sua massa di circa 80 metri e si è arretrato di un chilometro e mezzo. Questo è il Cialati, invece, il Cervino del Caucaso, l'Ushba, è un 5.200, una montagna che appunto porta molto ghiaccio ai ghiacciai sottostanti e nonostante questo il ghiacciaio in poco più di 100 anni ha lasciato una valle detritica sotto di sé. Questa è un'elaborazione appunto che è stato fatto da un ricercatore che è venuto con noi grazie ai dati satellitari, i dati delle mappe URSS, i dati che abbiamo ripreso durante la spedizione, si può vedere come le superfici di questi ghiacciai hanno diminuito appunto la loro superficie. Qui invece siamo in Alaska dove i ghiacciai hanno avuto forse uno tra i più grossi e più forti arretramenti mai visti nella storia. Alcuni ghiacciai hanno perso 60 chilometri. In realtà la particolarità di questi ghiacciai è che non hanno una diretta relazione col cambiamento climatico. Infatti vengono i fenomeni che fanno sì che questi ghiacciai si arretrano sono i più disparati, in particolare il tidewater che è un fenomeno proprio che disgrega il ghiaccio pensate che Glacier Bay National Park uno dei parchi nazionali più belli dell'Alaska degli Stati Uniti ha perso una quantità di ghiaccio di circa 3454 chilometri cubi di ghiaccio e questo ha fatto sì che tutti gli oceani del mondo si sono alzati di un centimetro. Può sembrare poco ma non è assolutamente poco. Quindi come avete potuto vedere da queste immagini qui addirittura si vedono dei ghiacciai che quasi si toccavano invece adesso si sono staccati e si sono disgregati di decine e decine di chilometri. Quindi ripeto da quello che abbiamo visto forse avete capito che le dinamiche dei ghiacciai sono molto variegate e le motivazioni che mi hanno spinto a portare a cercare di realizzare una documentazione più oggettiva possibile è proprio il fatto che hanno una dinamica molto complessa e soprattutto differente fra di loro e per me è stato importante riuscire a consegnare al comitato glaciologico al comitato scientifico che abbiamo costituito appositamente per questo progetto consegnare loro una documentazione più variegata possibile proprio perché le dinamiche di ghiacciai sono molto variegate inoltre non volevo essere additato come il classico fotografo ecologista che va in giro per il mondo a fotografare i ghiacciai per dare esclusivamente colpa all'industrializzazione dell'uomo siamo stati quindi come dicevo prima in Karakorum in Caucasus in Alaska nel 2016 andremo in Patagonia Argentina e Cilena in seguito in Himalaya in particolare in Nepal in Sikkim e in Tibet e poi per finire il progetto andremo a visitare le nostre Alpi Franco-Svizzere italiane quello che avete visto questa sera forse vi sembrerà forse lontano dalle nostre vite quotidiane in realtà in questi ultimi 30 anni stiamo osservando un'estremizzazione dei fenomeni naturali e una vera e propria accelerazione dei fenomeni naturali a cui l'uomo ha grosse difficoltà ad adattarsi pensate anche alle grossi alluvioni anche nel nostro territorio che è un territorio molto complicato con un rischio idrogeologico molto particolare come la tropicalizzazione del Mediterraneo i grandi uragani che finora li vedevamo lontani negli Stati Uniti invece stanno arrivando anche in Europa questa estremizzazione dei fenomeni naturali quindi va mitigata ovviamente per mitigare questi fenomeni bisogna capirli studiarli e quindi credo che sia fondamentale riuscire ad aumentare il più possibile la consapevolezza di ognuno di noi su queste problematiche tenendo conto che ognuno di noi ha una forte responsabilità quotidiana e quindi tenere conto e cercare di comprendere che il preservare l'ambiente vuol dire anche preservare noi stessi come individui e come specie grazie a tutti